Oggi iniziamo un percorso di storia che tratterà un'età ben particolare della storia occidentale, poi del mondo, che è l'età delle rivoluzioni. Con l'espressione età delle rivoluzioni intendiamo un'età di duplice rivoluzione, l'età della rivoluzione industriale e capitalistica che scoppierà e si affermerà nell'Inghilterra del Settecento, della seconda età del Settecento soprattutto, e che si diffonderà progressivamente in tutta Europa, nel Nord America e poi in tutto il mondo, cioè la rivoluzione capitalistica prima agraria e poi industriale, rivoluzione di matrice, di matrice borghese, di matrice liberista, e poi vedremo le rivoluzioni politiche, anch'esse di matrice liberale borghese, le rivoluzioni d'America, la rivoluzione americana e la rivoluzione francese. Dunque parliamo di duplice rivoluzione, una rivoluzione economica, sociale e poi culturale, che è la rivoluzione industriale, capitalistica, e poi parliamo di una rivoluzione politica, una rivoluzione politica democratica. Questa rivoluzione politica, liberale, democratica, ha come momenti fondativi la rivoluzione americana e la rivoluzione francese. Dunque per età delle rivoluzioni intendiamo età di rivoluzioni economico-sociali e età di rivoluzioni politiche. Va bene? Il soggetto di queste rivoluzioni, il soggetto motore di queste due rivoluzioni, è quella borghesia che più volte abbiamo visto affermarsi, crescere, essere comunque non un molo omogeneo, ma differenziata da paese in paese, animata sicuramente dall'intraprendenza individuale, dalla ricerca di profitto, da una voglia anche di ribalza rispetto alla nobiltà, da una presa di distanza rispetto alle classi invece subalterne, contadine, proletarie, nascenti, soprattutto per quanto riguarda la classe proletaria. La rivoluzione che vediamo oggi è la rivoluzione americana. Partiamo dalle rivoluzioni politiche, vedremo quella americana e poi quella francese e poi dopo appunto l'intervagazione ci soffermeremo su quella industriale. La rivoluzione americana con la rivoluzione francese e con la rivoluzione industriale è anche considerabile una rivoluzione atlantica. Queste rivoluzioni, se ci pensate, avvengono lungo le due sponde dell'atlantico. Le rivoluzioni americana e francese, la rivoluzione industriale e capitalistica accadono, scoppiano nel Nord America, in Inghilterra, in Francia, dunque hanno come comune denominatore quell'oceano atlantico. Sono rivoluzioni che scoppiano nell'Europa occidentale e nella East Coast, nella costa est orientale americana. Dunque l'America del Nord orientale e l'Europa occidentale, accumulate da quell'oceano, da quell'oceano atlantico, che a partire da queste rivoluzioni diventerà l'oceano dominante, il mare dominante in ambito economico e politico. Si può fare una storia delle civiltà a partire dai mari, le più grandi civiltà antiche si sono sviluppate intorno al mar Mediterraneo, poi a partire dal 500, 600 fino al 700 il mare dominante è stato il mare del Nord, il mar Baltico e dunque le civiltà protestanti, le civiltà commerciali, Amber, San Burgo, sono state nel mare del Nord. A partire dalla rivoluzione industriale, dalla rivoluzione americana, politica, la rivoluzione francese politica, il nuovo mare, il nuovo spazio acquatico, l'oceano al centro del mondo, sarà appunto l'oceano atlantico, che sarà egemone in maniera indiscutibile come traffici commerciali e scambi politici fino agli anni 70, primi anni 80 del 900. Dai primi anni 80 del 900 il mare, spazio acquatico, l'oceano dominante per quanto riguarda poi i traffici commerciali diventerà quello pacifico, l'oceano pacifico e l'oceano atlantico sono i due grandi oceani, i traffici commerciali, poi ovviamente c'è quello indiano, ok? Dunque mi raccomando sempre la geografia. Iniziamo e vediamo la rivoluzione americana. La rivoluzione americana è una delle rivoluzioni più importanti della storia perché fonda la principale democrazia moderna e contemporanea. La democrazia contemporanea affonda le radici, la democrazia rappresentativa, liberale, contemporanea affonda le radici nella rivoluzione americana. Poi dopo ci sarà la rivoluzione francese, poi tutta una serie di rivoluzioni e processi rivoluzionali dell'800 in Europa. Ma la rivoluzione americana riporta in auge un modello politico, quello democratico, di cui si sta discutendo nell'Inghilterra post-revoluzione seicentesca, si sta discutendo in altre parti d'Europa, la Svizzera, delle aperture sul modello democratico. La democrazia moderna, contemporanea, compiuta, che si realizza e si compie anche nel giro di un ventennio, con tutta una serie di contraddizioni che vedremo, l'esclusione delle donne, l'esclusione degli schiavi, la violenza sui nativi d'America, sugli indiani. Bene, la democrazia appunto moderna, contemporanea, che si realizza nel breve periodo, nell'arco di un ventennio, è appunto quella americana, nordamericana, cioè quella statunitense. Quello che vediamo è la nascita di una nazione, nascita di una nazione, celeberremo anche film, che racconterà questa nascita della nazione, non tanto però sulla guerra d'indipendenza, perché la nascita della nazione che vedremo avrà almeno due grandi tappe. La prima tappa è quella della guerra d'indipendenza contro l'Inghilterra, ma la seconda grande tappa sarà quella della guerra di secessione negli anni Sessanta e dell'Ottocento, perché l'America una volta nata, gli Stati Uniti una volta nati, su una rivoluzione, sulla violenza contro gli indiani, avranno un momento in cui, gli americani e gli Stati Uniti, avranno un momento in cui staranno per spezzarsi, staranno per portare al naufragio questo progetto politico. E questo è il momento della guerra tra nordisti e sudisti. Dunque la nazione che stiamo vedendo nascere è una nazione che ha due tappe fondamentali. La prima è la rivoluzione vera e propria con la guerra contro l'Inghilterra e poi il processo costituente che darà vita appunto alla federazione degli Stati Uniti d'America e il secondo momento sarà la guerra civile tra nordisti e sudisti. Oggi vediamo appunto la rivoluzione americana, la guerra con l'Inghilterra. L'America, i Stati Uniti d'America nascono, come vedete, su una condizione territoriale particolarmente favorevole e anche direi particolarmente unica. La condizione è quella di 13 colonie che come una lingua dal nord, dal New Hampshire fino alla Georgia, si estende lungo la East Coast. Ci sono questi 13 agglomerati, queste 13 comunità coloniali politiche che si sono affermate a partire diciamo dal 600. E sono 13 colonie figlie di migrazioni, figlie di migranti, figlie di inglesi, olandesi, francesi che hanno abbandonato l'Europa, l'Europa delle guerre di religione, l'Europa delle persecuzioni, l'Europa delle guerre politiche. Sono uomini e donne puritani, sono uomini e donne protestanti, sono ugonotti, sono prigionieri, galeotti, padri pellegrini. Una moltitudine di uomini e donne ha abbandonato l'Europa ed è andata nel Nord America e ha conquistato quelle terre, quelle terre che avevano già conquistato i conquistadores, va bene? Le primi scontri del Cinquecento, va bene? Ad opera appunto di grandi navigatori, di sequenti conquistadores, va bene? Soprattutto i francesi e gli inglesi hanno colonizzato il Nord Europa, la Francia e l'Inghilterra, invece il Centro e Sud America, lo sapete, spagnoli e portoghesi. Queste 13 colonie, a maggioranza inglese e francese, di lingua francese e inglese, a maggioranza ancora inglese rispetto a quelle francese, fatte appunto di uomini religiosi, galeotti, puritani, calvinisti, ugonotti, protestanti, questi migranti hanno fondato delle comunità a partire da una forte religiosità. La caratteristica di 13 colonie è la religiosità e hanno interpretato questi migranti la terra in cui si sono ubicati, che hanno conquistato, hanno interpretato tale terra come la terra promessa, la nuova Gerusalemme, la nuova terra che Dio ha dato a noi per fondare la nostra comunità di buoni cristiani. Dunque c'è una ideologia molto molto religiosa, molto radicata e molto profonda e voi sapete che le ideologie creano un collante, creano un'identità, dunque si sono rapportati a questi territori in modo proprio ideologico. Questa è la terra, la terra promessa, la nostra terra, è la terra che Dio dà a noi. Su questa terra promessa ci sono degli altri abitanti. E il problema di tutte le terre promesse è quando Mosè arriva in Palestina dalla cattività egiziana con l'aiuto di Dio a una terra promessa in cui però vivono altre popolazioni e Mosè rivolgendosi a Dio gli dice e ora cosa ne sarà? La terra che ci hai promessa è una terra occupata e Dio nella Bibbia gli dice e ora sarà la guerra e io sarò con voi. E poi gli fa anche un po' un dispiacere perché gli dice Mosè ma tu non vedrai la terra promessa perché morirai prima, il Mosè muore prima di vederlo. Ma era anche molto vecchio, sapete che nella Bibbia l'età dei personaggi è abbondantemente sopra la media, anche sopra la credibilità biologica e scientifica. Anche in questo caso l'arrivo è un territorio in cui ci sono degli abitanti ma le ideologie che aiutano a volte ad andare oltre la realtà alla comprensione anche della realtà perché se una terra è promessa dovrebbe essere libera invece quella terra rappresenta gli apaci, i ceien, i tomochi, i pelle rosse tutta una serie di tribù di nativi e questi padri pellegrini faranno la guerra hanno armi da fuoco, hanno un'altra arma abbastanza ignobile che si chiama alcol nel senso che a molti indiani, a molti nativi verrà anche dato tantissimo alcol e dunque l'alcol lo sapete per chi non ha una cultura e non ha, oggi sappiamo, nel patrimonio genetico l'abitudine all'alcol è devastante. Noi ad esempio italiani non siamo un popolo che si ubriaca facilmente siamo un popolo di bevitori e ubriaconi ma proprio perché siamo un popolo di bevitori e ubriaconi abbiamo un'alta resistenza all'alcol perché noi da millenni abbiamo l'abitudine all'alcol quando l'alcol è arrivato nei paesi come l'Inghilterra, la Germania in Finlandia, i paesi baltici ha devastato in gran parte queste situazioni perché non erano abituati a bere vino e alcolici dunque si ubriacono anche più facilmente queste situazioni perché ne fanno un uso abbondante e smodato ovviamente ma perché anche non hanno nei geni quella cultura del vino che i greci e i romani di cui noi siamo discendenti o cartaginesi avevano già ho fatto un po' di lezione approfittiamo per fare un po' un escluso culturale abbastanza ampio dunque arrivano, ci sono delle guerre delle guerre contro appunto le tribù di Pellerosse i Pellerosse come vivono, come vivono i nativi vivono abbastanza in maniera nomade ci sono anche quelle più stazionari ma si spostano in base anche alla vita della natura cioè quando c'è la bella stagione quando c'è il freddo quando c'è bisogno di andare a caccia quando c'è bisogno di andare a pesca vivono in simbiosi anche con il bisonte e allora la pelle del bisonte che fa le tende ti dà la pelliccia ti dà la carne seccata ti dà il grasso ti dà l'olio per accendere il fuoco per riscaldarti per avere grassi la carne per avere proteine è una delle tecniche per uccidere piegare, conquistare gli indiani dice lunghe sempre di questo europeo come si comporta come si rapporta con gli altri sarà quello di sterminarli anche i bisonti o di catturare dunque sterminare i bisonti significa sterminare una fonte primaria di cibo oltre che una fonte culturale fondamentale voi sapete comunque i nativi d'america sono tendenzialmente panteisti cioè venerono la natura e spesso distruggere la natura incendi massacrare i bisonti è un modo per portare i nativi d'america alla resa alla disperazione dunque la colonizzazione procede in modo violento con i nativi d'america a volte in maniera subdola vengono comprate a poche monete le terre dei nativi e procede in maniera religiosa si fondono delle vere e proprie comunità ad alta identità politica religiosa vuol dire comunità in cui si prega in cui il culto religioso è un po' importantissimo in cui questo lo ha saputo benissimo il modello del presbiterio calvinista cioè dell'assemblea in cui i uomini religiosi i uomini principali della comunità si radunano e decidono per eleggere i pastori per prendere le decisioni della comunità viene installato instaurato nel nord america le colonie che dipendono politicamente ed economicamente dall'Inghilterra va bene o dalla Francia ma progressivamente finiscono tutte sotto il controllo dell'Inghilterra le colonie che finiscono sul controllo dell'Inghilterra perché le eredità anche attraverso le guerre del Settecento hanno un'identità religiosa che porta con sé un'identità politica perché il modello calvinista del presbiterio cioè della comunità che è governata da un'assemblea di uomini religiosi o laici va bene da uomini di commercio da uomini di legge nottevoca è un modello ok modello di fatto più orizzontale del modello ovviamente dell'Ancien Regime del modello dell'assolutismo vuol dire che nelle città di queste 13 colonie il governo cittadino è nelle mani di un presbiterio di un'assemblea e poi diventerà del sorta di consiglio comunale verrà eletto poi un sindaco l'America è la terra delle elezioni lo sceriffo lo si eleggerà il sindaco lo si eleggerà solo il governatore dello Stato del Massachusetts del Roline del New Jersey del Delaware del Maine viene scelto dall'Inghilterra l'Inghilterra manda il governatore nomina il governatore invia o nomina sul luogo un governatore ma poi il governo locale per quanto riguarda non so la giustizia sulle cose comune il furto l'omicidio di vendetta l'abigeato sono degli sceriffi locali va bene la gestione delle strade del mercato sono di leggi locali che sono prodotto di elezioni comunali potremmo dire della contea della città e a queste elezioni parteciano progressivamente tutti i maschi ma a prescindere dal reddito dal ceto della classe sociale dunque l'America nasce con delle elezioni comunali ad esempio del sindaco dello sceriffo in cui ha votato chi? il pastore il boscaiolo il mercante di liquori di vini il pescatore cioè tutti a prescindere dalla professione vanno a votare a scegliere degli amministratori locali questo è il seme il germe della democrazia va bene la democrazia germoglia a partire da questa da questa da questa pratica democratica di partecipazione è chiaro a tutti 13 colonie che dipendono dall'Inghilterra 13 colonie anche diverse tra di esse proviamo a fare una divisione una divisione ok storicamente valida buona come tutte le divisioni vanno prese chiaramente con il beneficio inventario ci sono anche delle semplificazioni che però funzionano per trovare delle caratteristiche il più omogeneo possibile le colonie le 13 colonie le possiamo dividere in tre blocchi le colonie del nord le colonie del centro e le colonie del sud partiamo dalle colonie del nord per colonie del nord intendiamo appunto le colonie della nuova Inghilterra intendiamo appunto il New Hampshire intendiamo Rhode Island il Massachusetts il Connecticut e il New Jersey ok queste queste colonie del nord settentrionali sono colonie rigidamente puritane sono colonie puritane 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 avranno vissuto tendenzialmente tra di essi la preghiera il lavoro Dio veglia su di noi e Dio ha stabilito puritani calvinisti chi è graziato e chi è dannato quello che è il marchio di fabbrica del puritanesimo il lavoro il successo del lavoro in economia in famiglia sono un marchio della benevolenza divina siamo nella grazia di Dio perché i figli sono sani e robusti siamo nella grazia di Dio perché il lavoro ha dato un buon raccolto siamo nella grazia divina perché il tornado è arrivato e non ha spazzato via la mia casa c'è questa forte idea e l'altro invece è quello della dannazione chi è dannato deve operarsi per provare a cambiare anche se i puritani in maniera molto rigida dicono già che si nasce già predestinati la teoria della predestinazione di Calvino si nasce predestinati alla salvezza si nasce predestinati alla dannazione e dunque dobbiamo cercare nella vita i segni dell'essere dannati o dell'essere graziati ma questo è un escamotage ideologico pazzesco perché se voi dovete cercare se siete nella grazia divina o nella dannazione voi vi operate lavorate lavorate di più il meccanismo ideologico puritano ragazzi è veramente foriero portatore di sviluppo economico e capitalistico perché se io sono nella grazia divina vuol dire che ho cesso nel lavoro alla fine cerco di lavorare di più per avere il riscontro di essere la grazia divina quella che è uno filosofo sociologo in mention gigante del pensiero che vedremo in quinta che si chiama max weber chiamerà lo spirito del protestantesimo e il capitalismo cioè il capitalismo è stato sospinto dallo spirito dei calvinisti i quali mettono nel lavoro nell'etica del lavoro un elemento di successo divino ok se non è chiaro chiedetemi ok il successo lavorativo è manifestazione della grazia divina tutto ciò stimola il lavoro questi villaggi nel nord america nelle colonie del nord sono a forte identità religiosa estremamente lavorativi sono di artigiani di coltivazioni anche di ovviamente di cereali di commercio ma attenzione c'è una città c'è alcune città simbolo lo sapete di città in america della East Coast chiaramente la città più celeste di New York ok ma non siamo ancora qua già arriviamo perché è il centro delle 13 qua la città più importante che nascerà è ovviamente Boston ok Boston che è destinato a diventare il più grande porto in questa prima fase di sviluppo economico e a Boston ci sono profondi scambi commerciali e la città portuale del commercio e la città portuale in cui segnatelo bene più del 50% delle merci della madre patria giungono vuol dire che le colonie sono 13 di queste 13 colonie però una città una colonia commercia al 50% con la madre patria con l'Inghilterra ovviamente questa è Boston poi andiamo alle colonie del sud perché vediamo quelle antitetiche poi passiamo a quelle del centro le colonie del sud ovviamente Virginia North Carolina South Carolina e Georgia le anche colonie più celebri per il razzismo per il domani White Power Ku Klux Klan sono sin dalle origini le colonie delle grandi piantagioni mi permetto di dire guardate anche il loro territorio loro vastità sono più grandi anche nell'entroterra e hanno sviluppato grandi piantagioni chi lavora queste piantagioni? I neri nel triangolo commerciale fatto la scorsa lezione vi avevo detto che a un certo punto si sviluppa lo schiavismo gli schiavi che vengono catturati dall'Africa centrale vengono catturati o commercializzati con i negri con gli schiavisti arabi musulmani gli schiavi vengono portati e vengono portati in centinaia di migliaia alla fine in milioni nell'America centrale e nel Nord America nel Nord America in modo particolare nelle colonie del sud le quattro colonie delle tredici del sud che hanno piantagioni in cui lavorano gli schiavi voi capite che il costo del lavoro se tu fai lavorare gli schiavi tende allo zero vuol dire che il profitto del latifondista ovviamente è massimale lo schiavismo va avanti sino a fine ottocento anche dopo l'abolizione della schiavitù ad opera di Lincoln in ultimi anni è uscito un grande film di Tarantino che è Django che vi racconta ancora a metà dell'ottocento a metà dell'ottocento vi racconta ancora l'esistenza di queste piantagioni quella appunto gestita che è in di Villa Leonardo di Caprio le colonie del sud appunto sono sono colonie fondate appunto sulle piantagioni e il lavoro degli schiavi che mantiene il costo del lavoro bassissimo cioè vivono con una ciotola di riso con un po' di mais di cereali eccetera eccetera i maschi lavorano le piantagioni zucchero mais eccetera eccetera le donne che sono in minoranza ma servono per fare figli che generano ulteriormente schiavi sono quelle che tendenzialmente si occupano delle faccende domestiche degli schiavisti dei proprietari terrieri cioè lavano stirano asciugano educano i bambini rassettano la casa e ci saranno poi anche quelli che 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 fatti combattere lì ancora una cosa sull'imprendente la scena di mandingo e una minoranza no vi dico una cosa che vuole essere curiosa i sudisti quelli che un domani sono i sudi sono quelli del sud hanno come modello hanno come modello politico quale epoca storica e quale civiltà hanno gli schiavi prego hanno gli schiavi che lavorano e che si occupano anche dell'educazione della casa i greci i greci e vi ricordo ragazzi che questi latifondisti non sono tutti dei rozzi bifolchi i rozzi bifolchi sono più i boscaioli i pastori i pescatori i portuali del nord molti dei latifondisti hanno hanno studi umanistici classici su modello europeo e amano la letteratura latina e greca e pensano di rifare la Grecia come sono? qualcuno di voi se dico Giorgia ha in mente alcune ville alcuni palazzi che tipo di architettura hanno? bravo sono fatti su modello greco con il colonnato va bene hanno preso la Grecia e l'hanno riprodotta in alcune loro capitane soprattutto poi nell'ottocento con l'architettura e nel novecento dunque c'è un mondo di schiavi ma come hanno avuto gli schiavi che noi siamo la nuova elite la nuova classe dominante dunque anche questa cosa sapere più colti ok meno la maggior parte sono protestanti ma non puritani non calvinisti ce ne sono anche ma non so sono la maggior parte protestanti va bene ma ci può essere luterano invece al nord sono soprattutto puritani di origine calvinista grandi puetane terrieri vi ho detto grandi puetane terrieri grandi latifondi piantagioi le colonie del centro sono New York ovviamente tutto il New Jersey le più prime la Pennsylvania il Delaware eh sì il New Jersey io direi di metterlo ancora in quelle del centro dunque mettiamo in quelle del nord mettiamo il New Hampshire il Massachusetts il New York il Connecticut invece quelle del centro mettiamo New Jersey Pennsylvania Delaware e il Maryland queste sono delle colonie un po' ibride nel senso che sono colonie di artigiani eh di commercianti ci sono già dei nuclei urbani New York sono tutti ok ovviamente e hanno una struttura molto simile ok a quella appunto della del nord sono più simili a quelle del nord però però hanno anche delle grandi proprietà e ci sono degli squilibri sociali più simili a quelli del sud dunque hanno una struttura economica commerciale più simile a quella del nord ma in contempo hanno anche dei grandi proprietari e hanno delle disquilibri sociali più grandi mentre quelle del nord sono un po' più socialmente simili cosa vuol dire quando vi parlo di fare di fare di sociali chi farà russo deve saperlo bene parlo di ricchezza e povertà ragazzi gli squilibri sociali sono andati dalla ricchezza e povertà e sapete la ricchezza e povertà che sono andate dalle proprietà da quanto tu hai di proprietà di case di terre di denaro questa è la fotografia andiamo in chiusura di questa prima lezione vediamo il caso sbelli lo scontro e poi dedicheremo una seconda lezione la prossima settimana in chiusura della Revoluzione americana perché si arriva come si arriva allo scontro con la madre patria la dipendenza ovviamente economica con la madre patria è marcata ok cioè le colonie possono commerciare esclusivamente con l'Inghilterra l'Inghilterra governata da Giorgio III all'epoca l'Inghilterra la monarchia costituzionale parlamentare inglese ha stabilito questo vincolo le colonie possono commerciare con l'Inghilterra vuol dire che quanto prodotto dalle colonie viene venduto in Inghilterra ma aggiungiamoci una cosa quanto comprato dalle colonie può essere comprato solo dall'Inghilterra cosa vuol dire che se le colonie volessero delle spezie dei tessuti del tè volessero del legname no perché ne hanno tanto volessero cibi tagliolandesi dei francesi non lo possono comprare il tè che comprano è quello inglese che arriva dall'India ma non dell'India o delle compagnie commerciali francesi è chiaro? dunque si chiama vincolo economico una dipendenza economica che fa sì che le colonie possano commerciare in entrata e uscita solo ed esclusivamente con la madre patria il secondo ovviamente legame quello politico ma quello politico è meno pregnante molto forte guardate che l'America nasce da una rivoluzione che è economica politica non politica economica perché? perché c'è un'autonomia politica significativa cioè c'è un governatore vi dicevo di nome ma poi ci sono le assemblee legislative cioè c'è l'assemblea legislativa di New York l'assemblea legislativa del Rollin c'è l'assemblea legislativa della Virginia e le assemblee legislative sono elette dagli abitanti delle colonie dunque c'è un governo misto il governatore è della madre patria nominato da Giorgio III o dal governo Giorgio III dal governo anche inglese cioè primo ministro invece ci sono delle assemblee legislative ok dei coloni delle elezioni frutto delle elezioni dei coloni queste assemblee legislative legiferano ovviamente in nome di autonomia locale vogliono sempre e più essere autonome c'è tolleranza religiosa c'è pluralismo religioso va bene questo pluralismo religioso ha però un fondamento religioso perché arrivano dalle persecuzioni dunque ci sono dei tratti significativi politici e religiosi nelle colonie e ci sono dei tratti politici di autonomia vogliamo libertà religiosa vogliamo scegliere come governarci per quanto riguarderà non so le scuole i commerci interni quello non lo possono fare però i commenti esteri non lo possono fare dunque possono deliberare delle cose sulla giustizia sulla scuola potranno sulla vita religiosa ma non possono deliberare sulle materie economiche e dunque andiamo in chiusura cosa accade negli anni sessanta accade che si giunge a una tensione durissima per l'autonomia economica le colonie cominciano a chiedere a chiedere un abbassamento delle tasse delle tasse doganali delle tasse di commercio perché quando esportano dei prodotti devono pagare un dazio all'Inghilterra cioè vendo dello zucchero canna da zucchero vendo del mais all'Inghilterra pago un dazio all'Inghilterra importo del tè dall'Inghilterra pago un dazio all'Inghilterra cioè i prodotti in entrata in uscita prevedono una tassazione che serve al re a Giorgio III anche per le guerre dell'Inghilterra anche per la crescita economica dell'Inghilterra per la crescita infrastrutturale per la crescita industriale dell'Inghilterra si arriva al celeberremo Stamp Act nel 1765 ok lo Stamp Act cosa prevede è una bollo una tassazione ulteriore che viene imposto su tutte le merci in modo particolare sullo zucchero che è la merce trainante cosa succede? che in seguito all'imposizione dello Stamp Act di questo bollo extraordinario va bene le assemblee legislative di fronte a questo bollo votano degli emendamenti delle richieste affinché questa legge Stamp Act venga ritirata e si comincia a proporre il boicottaggio delle merci inglesi se noi non abbiamo voci in capitolo ok noi non accettiamo più di commerciare con l'Inghilterra di ricevere le merci l'Inghilterra e non accettiamo più di avere questa tassazione al motto di no taxation without representation inizia il boicottaggio non c'è tassazione no taxation se non c'è rappresentazione without representation cioè se non abbiamo dei rappresentanti politici che abbiano del voci in capitolo reale dove se le assemblee legislative locali non hanno valore allora noi dobbiamo eleggere dei delegati che entrino nel parlamento inglese le vie sono due o le assemblee legislative hanno un valore politico anche sulle questioni economiche cioè l'assemblea legislativa di New York del Rhode Island del Massachusetts può deliberare sui temi commerciali altrimenti i nostri rappresentanti devono sedere nel parlamento se se il parlamento inglese a stabilire cosa si fa non si fa nelle colonie noi vogliamo dei rappresentanti del parlamento inglese se non è nel parlamento inglese allora devono essere i nostri parlamenti e si arriva ok alla rivolta alla rivolta contro appunto la compagnia delle indie la più celebre delle quali 1773 è la rivolta di Boston nel porto di Boston sono assalite delle navi delle compagnie inglesi e il tè viene gettato a mare il governo inglese come reagisce reagisce con la ritorsione politica e militare vuole chiudere il porto vuole assolutamente invia dei soldati invia l'esercito e e chiudo vengono tolte le autonomie politiche a Boston e altre colonie va bene queste leggi vengono chiamate leggi leggi intollerabili e nel settembre del 74 viene nominato un congresso continentale cioè tutte le colonie si ritrovano in un'assemblea con dei rappresentanti per affrontare il tema dell'autonomia che però per alcuni deve essere dell'indipendenza e George Washington è incaricato di fondare un esercito delle 13 colonie ma di questo parleremo la prossima volta l'esercito